Anche per Francesco De Pasquale, fresco di candidatura, sindaco di Carrara per il Movimento 5 Stelle, è tempo di programmi. Non solo marmo e turismo, tra le mie priorità c'è anche il dissesto idrogeologico. Nel settore lapideo ha detto puntiamo a rimettere mano al regolamento e a una gestione efficiente degli incassi. Si è conclusa una prima fase molto bella e proficua, ha continuato De Pasquale, l'insegnante di lettere che ieri si è aggiudicato le primarie dei 5 Stelle. La prossima fase sarà ancora nel segno dell'apertura alla città, nella ricerca dei migliori profili per il governo di Carrara. De Pasquale ha infatti annunciato che sarà possibile candidarsi sul sito carraracinquestelle.it E ora...